Ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi vi voglio parlare di due grandissimi profumi di casa Chanel e metterli a confronto. Stiamo parlando di Coco Mademoiselle Eau de Parfum e Coco Mademoiselle Eau de Parfum Intense. Sono due profumi molto molto simili ma molto molto differenti. Quindi valutiamo un po' quale dei due scegliere e soprattutto le differenze tra loro, sia per quanto riguarda le note olfattive, sia per quanto riguarda il sillage e soprattutto la persistenza. Allora, che cosa dire di questo profumo? Sicuramente è un profumo che ci ha fatto innamorare in tutte le salse e sicuramente è un profumo che quasi tutte noi conosciamo. Eau de Parfum, secondo me, a mio parere, è un profumo molto molto aranciato, quindi agrumato. Mi ricorda un sacco la profumazione degli agrumi e dell'arancio. Infatti nella sua piramide olfattiva noi troviamo subito l'arancio, il mandarino, il bergamotto e i fiori d'arancio. Questa, secondo me, è una delle caratteristiche di questo Eau de Parfum. Poi troviamo subito i fiori come la rosa turca, la mimosa, il gelsomino, il lang ylang, per poi terminare con degli elementi un po' più importanti come la fava tonka, il vetiver, il paciuli, lo poponax, la vaniglia e il muschio. C'è chi lo trova molto 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 paciuloso, però a mio parere, non so se io ho un olfatto che è un po' non inclina il paciuli, però devo dire che su questo profumo lo sento proprio solo nel dry down, quindi è molto sbarazzino come profumo, è molto candido, nonostante voglia essere sensuale, molti lo definiscono sensuale. Io in questo profumo tutto vedo che, tranne che la sensualità, lo trovo molto giovanile, lo trovo anche molto deciso. La vaniglia che c'è all'interno di questo profumo ci darà poi degli indizi per capire meglio il profumo successivo, quindi la versione intensa, perché la vaniglia usata qui è la vaniglia classica, che si adopera da sempre nelle profumazioni, invece la prossima vaniglia è una vaniglia un po' diversa, quindi la sua proiezione verso gli altri, quindi il suo sillage, diciamo che è abbastanza alto, medio alto, rimane comunque un profumo non invadente, la sua persistenza è molto buona, qui sulla mia pelle stiamo circa sulle 8-12 ore, è un profumo che ovviamente non ha età. Allora parliamo di Coco Mademoiselle Eau de Parfum Intense, innanzitutto cambia il packaging, quindi cambia il tappo che in questo caso è di vetro purissimo e non è satinato come il precedente, l'etichetta è tutta bianca, quindi secondo me è molto diverso dal primo. È nato nel 2018 ed è un orientale legnoso, come noti iniziali troviamo come sempre gli agrumi, troviamo l'arancio di Sicilia, bergamotto di Calabria e il limone, quindi come apertura molto simile all'Eau de Parfum, però secondo me a differenza del primo lo percepisco meno aranciato e più bergamottoso, non so come spiegarvi, sento più il bergamotto rispetto all'arancio, l'arancio lo sento veramente poco, probabilmente con il limone è più aspro come profumo, quindi qua risulta un pochettino più verso il limone e il bergamotto. Poi troviamo i fiori, quindi rosa, gelsomino, note fruttate, cosa che dà molta profondità a questo profumo rispetto all'altro, poi troviamo le note di fondo, il pavatonca, l'abdano, il muschio e in ultimo la vaniglia del Madagascar. Ha una profondità, ha una complessità molto diverse, sono due vaniglie che non si assomigliano in realtà, perché la prima di Coco Mademoiselle de Parfum è una vaniglia molto dolce, molto pulita, molto lineare. La vaniglia del Madagascar è molto più intensa, è un profumo più maturo, molto più speziato a mio parere, molto più intenso, molto più paciuloso, ecco qui sento davvero tanto il paciuli. Io non lo abbino a questo, il Coco Mademoiselle de Parfum lo trovo come il mare, un'acqua comunque cristallina, vicino alla spiaggia, quindi non troppo profonda, un mare tranquillo. Coco Mademoiselle de Parfum intense lo vedo come un mare molto profondo, un mare scuro, un mare impenetrabile, è molto più deciso del primo. Se il primo era un po' più sbarazzino, lo de Parfum intense è diventato adulto. È un profumo che vira sul paciuli, che vira sulla fava tonca, che vira sulla vaniglia un po' più importante, quindi è un profumo un po' più impegnativo se vogliamo. Io ad esempio Coco Mademoiselle de Parfum lo utilizzo più per le giornate, più per quando lavoro. Lo de Parfum intense, come vedete, l'ho utilizzato quasi tutto, lo utilizzo magari più verso le serate, quando magari voglio un profumo che si fa più notare, che mi fa sentire molto sicura di me, invece l'altro lo vedo più da tutti i giorni. Come persistenza, ovviamente l'ho de Parfum intense, avendo una concentrazione di fragranza molto più spiccata, ha ovviamente una persistenza maggiore. Se il primo andava verso dalle 8 alle 10 ore, qui stiamo tranquille sulle 12 ore. Sui vestiti anche molto di più. Per quanto riguarda invece il sillage, devo dire che questo è molto diverso dal primo. Se le note olfattive agrumate di Coco Mademoiselle de Parfum tirano subito l'olfatto, e poi via via il sillage si spegne. Qui facciamo tutto il contrario, quindi all'inizio si parte con la nota di bergamotto, di limone come abbiamo visto, e quindi sì, si percepisce, però rispetto magari all'arancia che attira di più, si sta tranquilli come sillage. E poi viene il bello più tardi, perché poi ovviamente le note di Paciuli, le note di Fava Tonka e le note di Vaniglia del Madagascar prendono il sopravvento, e allora lì diventa un profumo davvero, davvero di sillage importante. Quindi sono due profumi che evolvono in maniera diversa. Se il primo è un pochettino più intimo come profumo, è un po' più sbarazzino, questo invece lo vedo più improntato, non più su un agrumato giovanile come poteva essere Eau de Parfum, ma lo vedo un po' più vicino magari a Chance de Parfum. Ecco, quindi un connubio che poi va ad esplodere verso il Paciuli, cioè un'altra cosa. Non diventa più un floreale, ma un profumo al Paciuli, se vogliamo. Queste sono le mie impressioni su questi due profumi. In realtà non ho un vero preferito, li ho usati tantissimo entrambi. Diciamo che l'Eau de Parfum è più da tutti i giorni. L'Eau de Parfum Intense lo vedo un po' spigoloso per tutti i giorni, soprattutto quando fa caldo. Diciamo che sono collaborativi entrambi e si possono utilizzare entrambi. Certo è che l'Eau de Parfum lo potete usare in tutte le stagioni. L'Eau de Parfum Intense vi consiglio ovviamente quando fa un po' più freddo, così valorizzate ancora di più la sua calorosità. E al contrario, quando fa caldo potete utilizzare l'Eau de Parfum, perché con i suoi agrumi e l'arancia vi rinfresca proprio lo spirito. Ragazzi, anche per oggi il video è terminato. Spero vi sia piaciuta la mia descrizione di entrambi i profumi. Andate ovviamente in profumeria a sentirveli, perché solo voi potete sentire qual è il profumo apposta per voi. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un like, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video. Let's talk about!